I senatori Salvo Salemi e Salvo Pogliese, il deputato Luca Cannata di Fratelli d'Italia, sono intervenuti in merito all'annosa questione dei rimborsi relativi ai tributi dei contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990. Si tratta di una vicenda dalla lunga gestazione, dicono i parlamentari di Fratelli d'Italia, e occorre tracciare una linea chiara per dare risposta ai cittadini di tre province siciliane che avevano depositato l'istanza per il rimborso dei tributi versati. Un grovio di sentenze e di interpretazioni giuridiche che ha reso il tema legato al sisma 90 particolarmente complesso e ne ha allungato la gestazione. Il nostro impegno in sede parlamentare con emendamenti mirati sarà quello di riuscire a garantire le coperture economiche e globali affinché quest'annoso problema si chiuda definitivamente in un arco temporale accettabile. I cittadini del sud-est siciliano ne gioverebbero in particolar modo, specie in un momento di grande difficoltà, e specie dopo aver affrontato a suo tempo i danni derivanti dal terremoto, concludono così i parlamentari. Mentre continua ancora la vicenda del terremoto di Santo Stefano a Zafferana e Santa Venerina, dove ancora si attendono contributi ma soprattutto risoluzioni a questo problema.